musica 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 ehh... предentrata ahahah benvenuti a tutti piangevate proprio per piangere pure io ma sono stati tenuta perchè il trucco è più importante Batti le mani Divertitevi, voglio bene 3, 2, 1 Dici qualcosa? A prima cosa? Dici qualcosa? Buongiorno pescheria! Ah, sei riuscito a fare tardi anche il tuo compilato Insieme? In che senso? Eh, ma come si fa? Ma andiamo bene Batti le mani, DJ Ma che se ce l'ha mandato, ci è banuto E anche te lo fai lasciare a fare tardi Ma qua abbiamo bisogno di rimanere per chiudere Nando, qua devo vedere Ma che se ce l'ha mandato, ci è banuto Allora, ciao Ma rilascia il pièce Allora, giù, si ha, i sei, i Allora, scosta, scosta, scosta Ma che sai addi auguri spero che passai un bello compleanno la bella se mi ha messo la colonna guarda la tua e ceci saprà te grazie auguri amore mio auguri giusti ti auguro dai applaudi ora aiuti non lo so eh no eh voi sapete se non è distrutto allora auguri giusti auguri giusti di scocco buongiorno pescheria tanti auguri gli ultimi giorni nella casa del grande fratello litigato spesso con ludovica io voto lei per l'eliminazione io voto Anna Maria Soffi auguri giusti aspetta secondo me l'ingualiatura va bene comunque questo è secondo me secondo noi nero nero ce lo sentiamo prima di tutto ciao giusti buon compleanno ti vogliamo auguri ti vogliamo dedicare una canzone di Alessandro Amoroso comunque andare allora in che senso andare anche solo per capire o per non capirci niente però andiamo bene all'amore proprio bene poter dire ho vissuto nel tuo nome ballare in che senso e sudare sotto il sole ma riveccia al piacere ok grazie 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 per motivi di tecnici di Tograzu qui siamo qui nell'opery side di Gragnano la nostra no la nostra giusti no volevo fare i gossip aspetta blazer grazie grazie strano gioco siamo capa ma che se ce l'ha mandato c'è banù stiamo qui nell'opery side di Gragnano stiamo aspettando la nostra cosa succede oggi diciamo di giusti no diciamo di giusti di giusti di giusti beve beve e sta sembriata e c'è tutto e io va ok mi mandiamo un cazzo da fare siamo aspettati che esci quindi muoviti ma non vai di piro batte le mani buongiorno pescherie ma vado il marco è feste ma che ti siamo datti le mani io non ho passato le becche sta scherzando come mi sono ridotta la mamma è saurita pazza auguri 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 amo auguri amo ma c'è tutta altra cosa vuole per te datti auguri a te comunque ragazzi siamo arrivati io sono arrivata la conclusione veramente giusti la macchina di carmi secondo me preparati proprio per gli scippi carmi ciao giusti ci sono i cucati ciao amo siamo amo auguri sei bella ciao bellissimo 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 in che senso però sinceramente stressante stressante armando pazzo esaurito però ci amiamo ci amiamo attraverso vestigie ci amiamo per questo generale abbiamo uno special guest pepe lepe te 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 direttamente da forcilla guglielmo un applauso veramente una cicalesi beach questa festa è organizzata nei massimi livelli soltanto perché io avevo capito che poi dovevo andare via di casa e io vado invece no e allora la festa non era motivo di esserci mi dispiace ti voglio aver condogliato è una festa festa questa qua io stavo festeggiando ero felice non per i tuoi 18 anni ma perché pensavo che tu domani non ti trovo più a casa beh è vero un peso giusti basta è ora è ora sei grande hai 18 anni basta ciao giussi siamo io e tani ciao giussi siamo io e jessica auguri auguri abbiamo uno special guest per te abbiamo direttamente da marte il dio della guerra auguri amore però ti voglio tanto ciao giussi ciao giussi giussi siamo i tuoi famigliati cucini tanti auguri di poco di anno giussi giussi tantissimi auguri per il tuo 18esimo sei e sarai per sempre la nostra piccolina auguri 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 e che c'è giussi giussi amore di nonna amore di nonna tanti 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 augurone sei la gioia di nonna infinita nonna ti vuole tanto tanto bene ciao giussi tanti auguri di buon compleanno per i 18 anni siamo qui ciao giussi ciao giussi qui siamo io e lele giussi aspie aspie e c'è cisa frate ciao giussi siamo io e lele gesto lele i moderatori del pazzo che sta tutto come il pazzo con te entra pazzoide allora con tutti i... ciao buonasera buonasera con tutto il bene possibile e immaginabile voglio spiegarvi una delle mie oggi voglio quello che tu mi mostri tutto il tempo e tutti i tuoi mostri ma come faccio il seno? ho lo stesso corto a che nomi? non lo posso dire perché se poi esce il video io nomino giussi annunziata perché devo uscire dal grande fratello allora ciao giussi stiamo aspettando solamente te muoviti che fa freddo non potevo perdermela ti vogliamo bene muoviti ciao ciao giussi auguri tanti auguri un bacio divertiti e ricorderai per sempre questo giorno ringraziala che vai sempre a fare tardi no vedi che non me lo è per strada stai facendo due omicidi per fare presto ciao giussi un attimo arian allora ciao noi stiamo ancora aspettando non puoi uscire più ci stai facendo aspettare un po' troppo fra cioè ti devi muovere vai faldo tanto vedi che c'è il grand angolo quindi si vede che sei qua auguri giussi muovi perché abbiamo freddo giussi giussi tantissimi auguri sei bellissima stupenda sei una favola ma non perché sei mia figlia ma sei troppo bella amore di mamma ti vogliamo tanto bene ma quando amma parte? ma che faccio? allora buonasera noi questa sera siamo ad un compleanno il compleanno di giussi c'è una certa giussi che noi non conosciamo giussi dappertutto ma è 18 18 giussi ma chi è? ma che è? mi sa c'è una certa giuseppina giuseppina annunziamo? peppina peppina è il complello suo ma chi se ce l'ha mandato ci è banù ma chi è sta giussi tutto parte ma chi è? è un cambio di identità veramente vogliamo fare il reclamo assolutamente assolutamente tanti auguri giuseppina peppina 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 adesso sei diventata grande ti stai divertendo stasera? immagino dal sorriso che hai bravo dal sorriso che hai sei luminosa e splendida come sempre il mio primo raggio di sole illumina tutte le giornate anche quelle prime ciao 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 allora noi siamo entrati prima per dirti un bel pensiero ma non sappiamo se abbia registrato meno comunque tu sei bellissima ok me ne vado arrivederci qua giuseppina no non si fa mai così ha fatto lei eh ma così è per far fare mi richiami sempre adesso sei diventata grande mi vuoi richiamare va bene Giulia giusi andiamo bene ma fa è il quarto video che faccio sinceramente per l'altro in che senso? io pensavo che la festa che lei è andata via di casa troppo non è così ho scoperto che la festa è perché lei ha fatto 18 anni non perché va via di casa non è vero noi ti teniamo in casa ti accettiamo e ti vogliamo un mondo di bene sei bellissima è che azzurra auguri giusi tantissimi auguri nonno ti ha fatto un bel regalo mi ha fatto partire un colpo è andata a cuore e te l'ho fatto con amore perché i nonni ti vogliono tanto bene ti amano tanto stella grazie a tutti per essere venuti vi voglio molto di bene un'altra volta è veramente speciale per me avevo fatto 18 anni e adesso dico una frase che ho detto ad Anna Maria tu dai minorenne puoi diventare maggiorenne una volta che sei maggiorenne non puoi tornare minorenne e questo è il problema principale un basso